Musica Ciao a tutti, ecco a voi i garganelli estivi con patate, pesto e pomodorini Una pitanza leggera e gustosissima Sono andata a tagliare le patate a tocchetti piccoli Ok, ora vado a tagliare nello stesso modo i pomodorini ciliegino Dove li vado ad inserire all'interno di una ciotola E ci aggiungo le foglioline di basilico fresco Aggiungo le olive nere rondelle, spolvero di sale Un giro d'olio e mescolo bene A questo punto aggiungo un cucchiaio di pesto E lascio lì da parte Nel frattempo in ebollizione l'acqua salata Ci aggiungo le patate e la pasta Potete usare qualsiasi tipo di pasta che sia preferibilmente corta Ok, vado a prelevarla con una schiumarola E la vado ad inserire all'interno di una ciotola Dove vado ad aggiungere appunto il condimento Ecco qua Mescolo bene con due cucchiai La farla amalgamare bene E' pronta da servire ragazzi E' semplicissima ma credetemi è veramente saporita Eccola per voi Ciao ragazzi, spero vi sia piaciuta Alla prossima! Alla prossima!